Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi fa piacere tornare qua dopo marzo. Io a marzo ho finito questo street painting che vedete tutti i giorni quando entrate qua. Sono due street painting per l'area MIND, commissione di talent lease, dopo un lungo processo di confronto con tutti i partner, gli stakeholder di MIND. Faccio una cosa molto punk, inizio con una provocazione, parlando di futuro. Nel 2018 i movimenti per il clima hanno fatto un funerale al futuro, quindi no future, si è parlato di punk e quindi questo mi sembra un buon modo per iniziare e qualcuno lo deve fare. Questo che facevano i momenti del clima e ancora fanno, questi funerali al futuro, viene dal fatto che degli studi scientifici che hanno analizzato 160.000 specie, di queste 160.000, 41.000 sono a rischio o comunque hanno a che fare con l'estinzione, se continuiamo con questo tipo di inquinamento. E questo mi è sembrato molto simile a un lavoro che avevo fatto nel 2016 per il Centro Pecci, quando si parlava ancora di mostre sulla fine del mondo e ho fatto la parata della fine, la parata dell'antropocene in cui questi performer entravano al museo con queste bandiere de hand e parlavano del rischio della fine del mondo. Queste erano delle operazioni un po' catastrofiste per parlare di un'urgenza. Allora c'è il filosofo Santiago Zabala che è anche un amico che lui dice la più grande emergenza è la mancanza di emergenza e quindi gli artisti in quel momento facevano delle azioni un po' per scuotere, per parlare di questa urgenza. E poi come comunicare questa urgenza mantenendo una complessità? Questa è l'altra grossa questione di come parlare, di come un'opera deve affrontare e contribuire a una tematica complessa e contribuire a un dibattito. Io questo approccio catastrofista sul futuro l'ho completamente abbandonato dato i tempi che corrono e quando sempre lo stesso Museo Pecci mi ha chiesto di fare un'opera nel 2020 durante la pandemia su il presente, su cosa fare, era una mostra che si chiamava Extra Bandiere, ho fatto questa bandiera che riporta un cerchio di rocce con scritto ecocentrismo e mutuo appoggio. Questa secondo me è una chiave filosofica per affrontare quello che oggi è la vera scommessa della nostra società, quella della transizione ecologica. Quindi la transizione ecologica che non può essere soltanto una questione tecnica, scientifica e politica, ma deve essere anche filosofica, culturale e perché no artistica, deve tener conto non soltanto quello di abbandonare le energie, le fonti fossili per le rinnovabili, ma anche tener conto di un aspetto completamente diverso che forse ha a che fare con quello che dicevo anche questa mattina al primo intervento, di questa complessità in cui tutto è legato, in cui la natura non è solo locale, e quelle reazioni alle azioni possono essere anche molto lontane e questo sistema complesso, ecosistema complesso va tenuto in considerazione in tutti i comparti produttivi. Allora un mese fa ero qui a Milano a parlare immaginario in un'altra conferenza, come i comparti produttivi si devono adeguare alle pratiche di sostenibilità, anche quello del mondo dell'arte per esempio, però questo sarebbe un altro talk, e questo approccio va cambiato radicalmente e l'arte in un certo modo insieme alla scienza può contribuire al dibattito per immaginare nuovi futuri, quindi se gli artisti possono essere considerati dei future tellers, cioè visioni sul futuro e così gli scienziati, e quello di cui abbiamo bisogno è sicuramente ricerca e innovazione, quindi siamo nel posto giusto. È stato detto, e per me questo è molto importante, come la ricerca e l'innovazione deve essere più possibile multidisciplinare, quindi come creare ponti tra le discipline e non isolarsi. Quello che ho fatto per molti anni in realtà è stato per più di dieci anni, ho portato avanti due ricerche separate, facevo la ricerca nell'ingegneria ambientale e quella nell'arte visiva, che a un certo punto però ho voluto sovrapporre. È stata una cosa molto lenta, però alla fine è successo, e ovviamente tutto è molto influenzato da quello che sta succedendo nella crisi climatica ambientale, quindi guardando questi dati su come le emissioni sono legate alle temperature, questi sono ormai dei grafici famosissimi, il famoso grafico Mazzado, che chiamano gli americani, dell'impennata di gas Serra. E quello più interessante, che è molto legato a quello di cui stiamo parlando oggi, sono i forecast, cioè le previsioni, come la scienza, ma anche la medicina, come abbiamo visto nella pandemia, purtroppo ormai siamo tutti abituati a vedere questi grafici, non soltanto gli scienziati, cercano di prevedere il futuro. Quindi se il business as usual, come diciamo, se continuiamo questo andamento, abbiamo questa linea nera tratteggiata, invece se operiamo dei scenari di decarbonizzazione, per quanto riguarda l'innalzamento di temperature, abbiamo degli andamenti che sono verso il verde di mitigazione di questi innalzamenti. E così mi piace fare una speculazione su come gli scienziati guardano i dati, che prevedono il futuro, e come i filosofi, gli artisti, cercano di immaginare altri futuri possibili. Qua ho tutti i grafici più importanti per l'inalzamento del livello del mare, secondo IPCC e altri studi, i fenomeni di desertificazione e l'accelerazione di questi fenomeni dovuti all'impatto antropico, e il famoso grafico sulla decarbonizzazione per il 2050 per arrivare al zero carbon, quindi gli andamenti futuri di decarbonizzazione. Poi vedrete che questi grafici sono stati molto usati nelle opere che vi presenterò. Allora, il progetto principale che io porto avanti da quando ho unito le due ricerche tra arte e scienza si chiama Climate Art Project, che è un progetto multidisciplinare tra arte e scienza e ambiente. E questo è nato nel 2015 a Parigi, quando mi è stato commissionato un'opera sui ambienti climatici in concomitanza della conferenza sul clima COP21. Come funziona? La metodologia è che è un progetto itinerante che cerca di fare un gruppo di ricerca multidisciplinare per arrivare a una questione spinosa legata a un territorio e legata ai cambiamenti climatici per poi dopo realizzare delle opere che scuotano l'opinione pubblica non tanto più sulla problematica ma sulle possibili climate action e poi dal lavoro di documentazione di queste opere creare un lavoro di agency, quindi di contributo nelle campagne ambientaliste. Questo è un po' un format che appunto adesso io ho tanti esempi, poi arriverò a quello che ho fatto qua fuori e probabilmente ne salterò qualcuno perché è un'esperienza di tanti anni, però per esempio a Parigi, questo muralist ancora c'era, il 2015, ho cercato in forma simbolica parlare delle cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici, quindi c'è le emissioni, è un lavoro sui simboli, quindi un lavoro simbolico, c'è scritto 350 parti per milioni che sono le parti per milioni di CO2 che noi dovremmo avere in atmosfera per non avere innalzamento di temperatura, invece siamo oltre i 410 in questo periodo. Il ciclo dell'acqua, le inondazioni, incendi, è un grande muralist che parla di questa problematica. Nell'ambito delle possibili soluzioni, tra virgolette, o comunque nelle ricerche che cercano di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, io sono sempre stato interessato alle piante fondamentalmente, questo è quello su cui ho fatto dottorati e post-dottorati sulle nature-based solutions, cioè su come la natura riesce a mitigare gli impatti antropici e quindi studiare questi processi che avvengono negli ecosistemi che riescono a rigenerare gli ecosistemi stessi. Questo appunto l'ho fatto tanto anche facendo progetti di ricerca applicata sia in Italia che negli Stati Uniti, in vari gruppi di ricerca, e per esempio questa cosa ha influenzato tantissimo una parte delle mie opere che hanno a che fare, per esempio con sculture che hanno a che fare con le piante. E così a Parigi, dopo aver fatto quel muralist che era un po' di denunce, io dico spesso i muralist che sono delle operazioni di pointing, della problematica, abbiamo fatto queste sculture collaborando con dei gruppi che fanno giardini urbani, quindi urban gardening a Parigi, sempre nelle aree tra i palazzi e lì abbiamo fatto anche dei workshop con i più piccoli, con dei momenti anche di disseminazione sia nelle scuole che alla Sorbona a filosofia estetica. Queste sculture, diciamo con le piante, sono una cosa che faccio da molto tempo, questa per esempio del 2013, ed è proprio una cosa sull'installazione, la pianta diventa scultura e mi interessa il fatto del divenire, di come la natura prende il posto del manufatto, quindi il rapporto con il non umano di cui si parlava, di cui si parlava di Ilaria, e quindi questa per esempio a Bologna e ogni anno cambia, è una scultura in movimento, perché queste piante a foglia caduca si trasformano nel tempo e ogni volta che si osserva questa scultura ha qualcosa di differente e alla fine si osserva di più la pianta che la scultura. E così poi opere idroponiche, questa è una nuvola idroponica, sempre a Bologna, ed fa parte tutto di questa ricerca tra arte e nature-based solution, che è la maggiore ricerca su arte e scienza che sto portando avanti in collaborazione con vari centri di ricerca, cioè creare degli ecosistemi, qualcosa che cambia nel tempo. Invece sulla parte sempre dell'operazione di pointing del problema, a volte utilizzo i dati per fare delle opere data-driven, cioè quindi delle opere che sono anche dei data visualization, come questa scultura che si è comprata alla Business School di Bologna, che fa vedere le acque dolci, cioè come sono divise le acque dolci tra ghiacciai, acque di falda e acque superficiali. Fondamentalmente, quella piccola goccia blu sono tutti i fiumi e i laghi nel mondo rispetto al resto delle acque dolci, e fa capire la scarsità della risorsa, la vulnerabilità della risorsa. Ancora per parlare di futuro, un'altra opera data-driven è questo murales di Venezia, fatto in collaborazione con il CNR e con le due università di Venezia, alcune gallerie e istituzioni locali che si basano sui dati di IPCC, l'Intergovernmental Panel for Climate Change e alcuni dati locali del CNR e ISMAR. Praticamente era il 2017, in concomitanza alla Biennale Arte, ho realizzato questo wall painting che parla ovviamente dell'innalzamento del livello del mare e assumendo che il 2017 è la base del muro, vediamo negli anni quanto si innalza il livello del medio mare e questi sono valori medi, non sono i valori massimi perché sono già abbastanza spaventosi i valori medi. Vediamo che a 2100 per IPCC l'acqua ne arriva alla vita e a 2200 oltre la testa, quindi più di due metri. questo è il medio mare mentre in questo momento stavo tracciando quello che sono le onde estreme è anche un altro fenomeno studiato dagli scienziati per prevedere quelle che sono l'intensità delle onde estreme e soprattutto usano queste curve anche e ritorno infatti oggi si è parlato molto di onde e di picchi d'onda. Questo delta H è il massimo picco che viene calcolato da gli scienziati negli eventi di clima estreme e di onde estreme e nel Mediterraneo è stato stimato per 9 metri. Questo murales è lungo 100 metri ed è il primo murales della storia di Venezia sul Canal Grande autorizzato che quest'anno è stato restaurato e sarà permanente per la città di Venezia così è deciso la sovrintendenza. è un rebus e di nuovo è un'operazione di pointing sulla problematica dell'inalzamento del livello del mare però noi sappiamo che questi dati cioè che l'inalzamento del livello del mare questo fenomeno è legato all'inalzamento delle temperature che è legato alle emissioni quindi se cambiamo le emissioni diminuiscono le temperature e anche questo fenomeno può essere cambiato. Anche qui volevo parlare di possibili climate action soluzioni cosa si può fare quindi ho realizzato questa scultura di sette metri in ferro che è un faro diciamo su questo piccolo giardino che c'è sotto che sono di nuovo le piante protagonisti di questo adattamento che sono le piante di laguna che proteggono da sempre Venezia dal mare e quindi anche qui c'è un oltre al murale c'è quest'altro aspetto che completa un po' il ragionamento su Venezia e sull'inalzamento di livello del mare e i momenti di divulgazione così mi salto la desertificazione del talk vado in India dove invece ho voluto parlare di inquinamento atmosferico quando Delhi è diventata la città più inquinata al mondo nel 2018 per polveri sottili e per inquinamento atmosferico allora ho voluto realizzare questo wall painting che parla dei dati di inquinamento nel mondo e a Delhi quindi diventa uno statement che aiuta anche un po' i movimenti che sono stati repressi che parlavano di questa cosa e però parla anche di futuro avete visto quel grafico che vi ho fatto vedere della decarbonizzazione è sul muro si parla di futuro di zone umide di wetland di possibili scenari di mitigazione e adattamento di queste nuvele che da nere diventano bianche in questa transizione ovviamente è aiutata da questo albero che anche qui ho scelto questo muro per questo albero perché fa parte dell'opera il nero tra l'altro è una cosa abbastanza metafisica perché ho dipinto lo smog con lo smog perché ho usato un inchiostro fatto di smog per utilizzare anche qui c'è stata una parte performativa con i cittadini che in cui riclamavano aria pulita con una performance ok vado un po' veloce perché vorrei arrivare a voi però devo menzionare per forza il progetto su Roma perché sono sei anni che faccio questo progetto per i parchi e per i fiumi quindi un omaggio di nuovo al non umano in quanto penso che i fiumi e gli spazi verdi ripariali sono una dorsale importantissima per la salute della città e dei suoi cittadini e quindi mi sono impegnato in questi anni a fare delle escursioni lungo i fiumi performance citizen science in cui insegniamo ai cittadini e ai bambini di tutta l'età come si analizza l'acqua come si utilizzano le piante come bioindicatore sull'inquinamento come a capire i dati quali sono le criticità sugli inquinanti confrontare i dati che raccogliamo con gli storici di ARPA che è il nostro partner confrontare i dati sulle piante con gli studi che sono stati fatti negli anni 70 e in fine 800 per capire quali sono le piante pioniere come cambiano le piante sui fiumi e poi fare delle piccole vertenze su questa cosa denunciare il fatto che per esempio nell'aniene in cui nel Tevere per quanto riguarda l'azoto questo è un altro data visualization un po' immaginifico prendendo i fiumi come direttiva delle come XY per dei dati dell'azoto si vede che questo ingrossamento è dato da i dati dell'azoto misurati sulla Niene e sul Tevere prima e dopo la confluenza per esempio questo è uno dei tanti risultati mostrati in un altro modo ovviamente quando poi mi è stato chiesto di fare un murales sulla stazione di Monti o due passi del Colosseo ho potuto fare i fiumi perché c'era questo lavoro scientifico dietro e quando poi invece per andare anche qui nell'ambito delle possibili climate action questa è una mostra che si chiama Future Landscape ancora mi sono accorto dopo che ho avuto questo invito che ho fatto tantissime opere che parlano di futuro allora in questa mostra le piante diventano delle piante che riescono a restaurare a rigenerare gli ecosistemi inquinati quindi un momento speculativo in cui tutto è inquinato le piante che piantiamo sono felci e canapa per la loro capacità di assorbire metalli dai terreni le felci le iperaccumulano nelle foglie mentre la canapa le mantiene nelle radici quindi le piante hanno un ruolo rivoluzionario negli ecosistemi che è la capacità di rigenerarli quelle sono le bandiere le stesse piante erano state usate dagli attivisti per fare il simbolo delle estinzioni e le stesse piante sono state usate per un progetto scientifico in cui abbiamo monitorato i terreni prima e dopo il ciclo produttivo e abbiamo visto quanto queste piante sono riuscite a battere quantità di cadmio arsenico e mercurio del terreno e cosa importantissima che fa parte anche dei goal di questo lavoro degli obiettivi di questo lavoro abbiamo pubblicato un articolo scientifico su Journal for Environmental Planning and Management quindi una rivista scientifica non solo sulle nature-based solutions su questa capacità delle piante ad assorbire inquinanti ma abbiamo parlato anche del processo artistico e di partecipazione dei cittadini quindi come l'arte riesce a trasmettere dei concetti scientifici Art as a Science Transfer Tool si direbbe in inglese e quindi per me è importante rompere le barriere tra le discipline e riuscire a parlare di arte su una rivista scientifica e viceversa e questo insomma è stato alla prima review che noi eravamo andati abbastanza cauti ci è stato chiesto di spiegare meglio la parte della mostra e quindi abbiamo messo più parte di arte la parte forse più visionaria è legata del mio lavoro poi è legata a queste performance per il non umano in cui rappresento bandiere dei spazi verdi e a queste installazioni di alberi che sono delle aule verdi che sono ovviamente dei cerchi di alberi che per me sono delle opere di land art sono sicuramente delle nature-based solution perché sono anche degli spazi di incontro e di socializzazione quindi è un format diverso di forestazione urbana che mette anche la parte sociale e artistica ok taglio sulle altre performance che abbiamo presentato al maxi che su alti morais di fiume questo è a venezia in un altro spazio rigenerato che è la manifattura di tabacchi e arrivo a noi qua che è questo che diciamo quello che vedete qua fuori a human technopole ed è si chiama unknown ed è proprio un omaggio a quello che per me è una delle cose più importanti di cui vi ho parlato all'inizio che è la ricerca scientifica e l'innovazione alla curiosità che spinge i ricercatori di scoprire quello che ancora non conosciamo o addentrarsi nell'ignoto perché io mi ricordo quando facevo il post-dottorato e ti chiedono ok scrivi un progetto di post-dottorato su quello che vuoi scoprire e allora noi ci difendevamo sempre con la frase idea Einstein che dice se sapevo quello che stavo cercando non mi chiamavano ricercatore perché comunque però ovviamente poi prima di finanziare una ricerca vogliono sempre sapere come può essere sfruttata però invece questo è proprio sull'ignoto su quello che non sappiamo quando ci addentriamo a ricercare a studiare e magari scopriamo delle cose che non avevamo previsto di scoprire ma è soltanto la curiosità e la fascinazione per la conoscenza che ci porta a scoprire qualcosa e quindi in realtà c'erano questi alberi quindi la parte degli alberi già c'era qua e quello che ho iniziato a fare così vi racconto i segreti che stanno dietro a questa murales è quello di connettere le radici degli alberi farli connettere in una rete come fosse una rete neuronale quello lo sapete la rete neurale scusate questo qui insomma parlando con dei ricercatori di human technology che uscivano diciamo che cosa farai qua allora sicuramente mi sono fatto influenzare sia da loro che probabilmente da un altro Mancuso Stefano Mancuso che parla di intelligenza delle piante e quindi queste radici che si connettono però poi diventano altro si spezzano cascono in questi buchi neri qualcuno dice che sembrano dei cromosomi dall'altra parte sicuramente sono dei gangli che sembrano più appunto un sistema nervoso e quindi queste piante questi alberi di antro intelligenti dopodiché secondo me l'opera non va mai spiegata più di tanto ci sono state veramente delle influenze del contesto quindi anche di human technology però poi dopo il significato rimane sempre aperto a chi la attraversa le emozioni quello che uno ci vede dipende dal suo background culturale quindi per me una parte di mistero deve sempre rimanere dentro e questo è un po' il linguaggio dell'arte dentro l'opera però sicuramente ci sono dei temi che ricorrono e questo poi lo potete vedere qua fuori per chi non l'ha visto e invece l'altra che ho voluto realizzare qua da The Mind si chiama Islands ed è invece su un altro concetto più legato alle scienze dell'ingegneria ambientale ovvero queste isole hanno ragionato molto sul concetto di isole di calore quindi su come da un limite che abbiamo quindi che è l'effetto isole di calore volevo un po' parlare di questo l'effetto isole di calore quindi dipingendo di vari colori diversi queste isole in realtà hanno proprio delle temperature diverse dovute a solar radiation cioè come assorbono l'energia solare noi sappiamo che l'effetto di isole di calore è qualcosa che è dovuto ai materiali dove c'è molto cemento c'è un alzamento di temperatura almeno di 3 gradi rispetto alle aree verdi e questo è un grosso problema per le aree urbane e molto spesso è dovuto anche ai colori dei materiali infatti la certificazione LEED che è quella che vogliono avere i progettisti di Mind vogliono avere non soltanto LEED è una certificazione di qualità degli edifici però si è stesa anche a qualità di quartiere c'è anche il LEED quartiere io nella prima vita quando faccio l'ingegnere ero consigliere per LEED sull'Aquan come ricercatore questa adesso è una cosa che è uno standard importantissimo per gli edifici e adesso anche per i quartieri per avere la certificazione LEED bisogna avere una riflettanza solare maggiore del 29 che sarebbe il 29% della luce incidente deve essere riflessa e quindi fondamentalmente bisogna usare colori chiari ecco quindi da questo limite perché a me mi è stato detto che non potevo utilizzare colori scuri è diventato una forza è diventato il concetto a base di questo di questo muro che sta di questo pavimento dipinto che sta sul decumano e quindi ho voluto mettere gli indici di riflettanza sui vari materiali e pensare queste isole come delle isole di calore con diverse temperature e quindi dai colori più chiari hanno addirittura più del 60% di riflettanza e quelli più scuri invece qualcuno che va sotto quei marroni scuri sono sul 20 inoltre sempre una sorta di data visualization ci sono queste sorti di pezzi di ghiaccio che sono invece più grandi sui colori più chiari e poi si vanno a diminuire sui colori più scuri inversamente proporzionale per far rimarcare questa problematica dell'effetto di soli di calore va bene questo è un po' è quello è quello che c'era dietro questi street painting chiamiamoli in realtà manca la parte delle soluzioni che è la parte del verde però parlando con Land che è lo studio di architettura che sta progettando il verde in realtà ci siamo molto confrontati su quello che fare con il verde sul decumano perché il decumano è tutto asfalto è il massimo per l'isola di calore per quanto riguarda il calore estivo e quindi l'importanza di mettere delle aree verdi è fondamentale per mitigare questo innalzamento di temperature quindi in realtà questo progetto parla delle piante anche se non ci sono cioè della loro assenza però ci saranno e so che insomma nel progetto vengono inserite delle piante vicino ai miei disegni e quindi è un po' un indivenire questa cosa e va bene quindi concludo questa presentazione per parlare appunto dell'importanza anche del ruolo anche dell'arte nel dibattito politico culturale sulle questioni ambientali sicuramente queste opere sono state pubblicate sulle riviste d'arte ma quello che mi è interessato di più è vedere come anche la comunità scientifica ha iniziato a capire le potenzialità di un'arte pubblica che parla di queste tematiche in un'altra forma e quindi questo è Climate Key che sicuramente conoscete il blog Climate Key che parla di cambiamenti climatici per la comunità europea che riconosce quest'opera di Venezia come un'opera efficace per parlare in alzamento di livello del mare il ministero dell'ambiente tedesco ha usato quella foto che vi ho fatto vedere prima per parlare di IPCC per un webinar su IPCC sul documento su 1.5 gradi ai policy makers alla classe politica tedesca e poi per parlare proprio di futuro questi lavori sono stati inseriti in un libro di scuola che secondo me è la cosa più importante tra tutte che i ragazzi scuole medie e liceo iniziano a sentire parlare del tema ecologico nell'arte contemporanea quindi c'è ovviamente alla fine del libro più o meno pagina 400 e oltre però questi temi vengono anche inseriti nei libri di scuola quindi nell'istruzione sperando che accendano una lampadina e sensibilizzano su alcune tematiche e questo è un po' l'obiettivo di questo lavoro quindi anche se l'arte è inutile non ha una funzione pratica però c'ha delle effetti diciamo non collaterali diciamo qualcosa che avviene che poi accende delle lampadine e magari può contribuire insieme agli altri linguaggi come quello scientifico quello culturale quello politico quello filosofico a un cambiamento verso un ecocentrismo grazie prima è stata citata Donna Haraway allora vi consiglio questi libri ho avuto la fortuna di fare la copertina di Donna Haraway in italiano e quest'altro invece contro nature teorie e pratiche di collegia politica dove ho scritto sono tutti filosofi molto importanti io con estrema anzi la prestazione ho scritto un capitolo su arte ed ecologia politica e sicuramente molte delle cose che ho detto qua sono approfondite molto meglio grazie grazie a tutti